Sette cose da sapere sul clima che cambia, è stato questo il tema al centro dell'interessante incontro che si è tenuto venerdì 6 aprile alla Mediateca Montanari, incontro che rientra nel ciclo di appuntamenti organizzati in occasione del 50esimo di fondazione del Liceo Torelli. Una tematica, quella del clima che riguarda tutti e che come ha sottolineato la relatrice Elisa Palazzi, ricercatrice presso l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche e docente di Fisica del Clima all'Università di Torino rappresenta una delle più grandi sfide a cui siamo chiamati. Nell'elencare le cose da sapere sul clima che cambia, la professoressa Palazzi si è soffermata in primo luogo sul riscaldamento globale che dal 1950 ad oggi ha subito una notevole accelerazione. Le attività umane messe in evidenza alla Palazzi sono la causa dominante del riscaldamento osservato nella seconda metà del XX secolo e di questo ne siamo assolutamente certi. Le emissioni di gas serra che hanno subito un aumento epocale sono aumentate notevolmente negli ultimi 40 anni portando di conseguenza un aumento di temperatura che è avvenuto con una rapidità senza precedenti. La professoressa Palazzi nel suo intervento è illustrata in maniera molto dettagliata ma molto comprensibile anche per i non addetti ai lavori l'effetto serra naturale che in condizioni normali è un meccanismo fisico naturale positivo. Con la velocità di crescita delle emissioni però, oceano e vegetazione non sono in grado di rimuovere efficacemente l'anidride carbonica dall'atmosfera come avveniva nei secoli passati e questo ha determinato l'enorme crescita della sua concentrazione in atmosfera dando luogo al cosiddetto effetto serra antropico. Nell'illustraneo gli indicatori del riscaldamento globale la Palazzi si è soffermata sugli eventi estremi e l'Artico a causa infatti del surriscaldamento Artico il getto, ovvero il fiume di aria che si sposta ondulando da ovest a est trasportando i sistemi di bassa e alta pressione è diventato più debole e più ondulato determinando la persistenza di sistemi di alta e bassa pressione che trasporta viaggiando determinando ondate di calore e di freddo, siccità e alluvioni. Per quanto riguarda la biodiversità moltissime specie si stanno estinguendo soprattutto nelle zone montuose. La Palazzi si è soffermata infine anche sui modelli climatici e sul loro funzionamento modelli fondamentali per fare previsioni future sul clima.